Il tempo delle parole è finito. L'unico sentiero verso il cambiamento è quello delle armi e delle bombe. Polizia! 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 Scusiamoci! Ok, i bianchi con i bianchi, i neri con i neri. Quegli uomini stavano gettando le basi per una rivoluzione armata. Avranno bisogno di un buon avvocato, il migliore. Mandela. Nelson! Devo avvertirti, ci siete tutti dentro. Se uno salta, saltate tutti. Morirete? Non accetterei il caso. Cerco di salvare le vostre vite. E io sto cercando di salvare la tua. Cos'hanno fatto di così sbagliato questi uomini? Si sono opposti all'apartheid. Noi vinceremo. A merda! Parole come coscienza, rispetto, giustizia, umanità sono armi di scarso valore. Volevamo un mondo migliore. Questi uomini hanno scelto di lottare. Mi dichiaro non colpevole. Qualcuno deve metterlo a tacere. Questi uomini amano il proprio paese quanto amano l'idea di essere uomini liberi. Ne vale la pena? Lo hai mai chiesto a Mandela questo? Chiedono uguaglianza al governo, ai loro pari. Uguaglianza agli occhi di questa corte. No! 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 Grazie a tutti.